Oggi non ci puoi sempre nascondere, però io sono sempre convinto che il Corato sia la squadra a battere. Non si nasconde ma resta prudente nonostante un Natale in vetta alla classifica e la filosofia di Salvatore D'Alesio, presidente onorario del Molfetta apripista del campionato di eccellenza pugliese dopo il turno che ha contraddistinto la fine del 2019 sul campo e l'inizio del girone di ritorno. Merito quello bianco-rosso di un ruolino di marcia che ha visto la squadra premere sull'acceleratore dopo la decima giornata, quella del K.O. per 3-0 contro l'audace Barletta. Di lì sono arrivate sei vittorie di fila su tutte il tris al Corato al giro di Boa che ha permesso l'aggancio ai Neroverdi, sorpassati domenica scorsa con la vittoria di Vieste e il contemporaneo pari del gruppo di Di Domenico sul campo della Deghi. Io volevo dire che noi siamo lì per tanti motivi, perché la dirigenza sta facendo un ottimo lavoro, perché è un progetto serio che è cominciato quattro anni fa, che aveva il principale obiettivo quello di riportare entusiasmo a Molfetta, riportare i tifosi allo stadio ed è con questa squadra piano piano ci stiamo riuscendo. Autentico Furtino, sin qui è il Paolo Poli. Nello stadio Amico, Trigiani e Soci hanno conquistato sei vittorie e due pareggi. Anche quando non si andava bene, cercavo disperatamente di comunicare ai tifosi che la squadra va sempre seguita, anche nei momenti peggiori, perché il tifo è sempre importante. La tifoseria, il pubblico, i spettatori sono sempre il dodicesimo uomo in campo che ci dà alla squadra una forza incredibile. Sulla copertina del 2019 del Molfetta c'è però Renato Bartoli, l'anno scorso allenatore e giocatore in sostituzione di Pietro Sportillo, quest'anno allenatore rampante in vetta alla categoria. Storia da predestinato, assicura D'Alesio. I giocatori hanno creato uno spogliatoio splendido, che è anche la forza della squadra, ma quel tocco in più lo dà proprio l'allenatore. Perché secondo me, avevo detto già l'anno scorso, quando sostituì Sportillo e faceva da giocatore allenatore, e già dissi che era un predestinato, per come prepara le partite, per come è assillante con tutti i giocatori, per come lavora sulla testa dei giocatori, per me ha qualche cosa in più rispetto a tanti altri. Il 2020 del Molfetta partirà in casa contro il San Severo, domenica 5 gennaio, un testa coda per continuare a sognare per un anno da vivere da padroni del proprio destino, lo dice la classifica.